Nel 2012 prende parte al film Chernobyl Diaries, La Mutazione, mentre nel 2015 reciterà in Paranormal Activity, Dimensione Fantasma, inoltre, sempre nello stesso anno, sarà la protagonista del film di Mark Nevald in The Vatican Tapes Diventerà una delle protagoniste della serie televisiva The Magicians, interpretando la parte della giovane maga Alice Queen Nelle versioni in italiano dei suoi film, Olivia Taylor Dudley è stata doppiata da Grazie per l'attenzione Iscriviti al Calane